buongiorno a tutti e benvenuti al 59esimo episodio della rotocomanda ancora su dominio che si fanno i mega punti della madonna e si sale di livello come se non ci fossero domani però siamo capitati su una mappa bruttissima, questo la odio e tra l'altro è molto ampia quindi è ebreo molto ampia e molto difficile di continuare, dov'è la mappa? datemi a subito si punterà l'amico buffola in fondo giusto? no boh mi ha fatto fare headshot, vabbè e mo' c'è sta headshot dammi l'headshot, vabbè non mi danno l'headshot ok no no, aspettatemi, mi arrivo anch'io su C aspettami no infami perdiamo A luridi su B su B cazzo il mio regno per B dai vieni 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 amico buffo oh che vuoi va no, salta vabbè vabbè porco Giuda no ho sbagliato, adesso mi ammazzano se mi vedono ciao ecco me stai un altro vaffanculo perché io volevo fare no vabbè sono un coglione e la madonna fuga adesso sono su B ma ammazzano ma posso andare giù ma che vuoi fa non mi hanno ancora ucciso ma che vuoi fa ah no ma hanno ucciso ok come ho fatto a chiamare il war cribbio bealo dove cazzo sto andando bravo sotto controllo che giro sto facendo oh sono pazzo io volevo mettere questo qua qua sopra allora vabbè sono tutti su B arriva un approvvigionamento nemico boom boom shakalaka biatch allora chi è e la metto aca dopo io me ne vo amichevolmente in un posto lindo e pinto tipo questo me siento qua e vengo qua e sfondo i culi chi va a subì quindi aca mamma mia eh però non posso andare subì vaffanculo non ce la faccio prendo vabbè esco e lo vado a trucidare io ma che vuoi fa grande grande mago qua oh ma il nemico ha detto ma che vuoi fa anche a tia via 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 aio quella madonna eh no ce l'hanno i nemici eh o perché non ce lo facevo sparagli vabbè andiamo a prenderla aio oh madonna grandi punti figa maghi se ne voto ah ho finito passiamo under under the bridge oh e' mo' p o a grandi venite 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 io dietro di voi più o meno se vi uccidono vi uccino dietro di voi sono venuti da dietro vaffanculo no vanno su su A su A cane ah ma una volta una volta che vanno sopra dopo non è di nessuno vieni 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 grande fratello è già morto quello no e vaffanculo mamma mia i punti che vuoi fa che vuoi fa che vuoi fa il difenditore sei stato sei stato fortunato amico amico tu fortunato che io sfondare chiap chiap siamo tutti chiap e dovevo metterla più più dietro la torretta alla alla boom è gente che cade perfetto quanto stanno a fa dominio 9 4 2250 punti data vc c per il mio regno su mamma mia vulcan come ma vaffanculo dai ciamalo ciamalo non capisco sta boiata di far aspettare la gente ciao amico mi sa che sei morto oh non c'ero no per un pelo dai che va giù dai che va giù dai che va giù oh l'ho battuto l'ho battuto non ci credo ah un altro aia sotto 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 ha battuto un altro non lo so eh però ah ah vai 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 no 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 grande oh difensora mamma mia i punti che sto facendo oh cazzo ah davvero no io sto dentro non è vero basta suà 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 imbecelli eh vabbè dove cazzo l'ho attaccata vai vai suà vai suà cristo ma che vuoi fa no no ricarica bello da mamma affanculo la torretta la metto qua e vaffanculo perdiamo alfa abbiamo perso alfa andiamo su c abbiamo perso alfa su c su c su c c'è qualcosa qua ah se vai dentro ti fai male oh dai bella storia viva i doppi punti evviva dominio e muori fuga lancio di approvvigionamenti hanno distrutto la torretta hanno A ok lo aspettiamo no no giù 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 vabbè mi hanno distrutto no 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 la tua squadra controlla il sistema via 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 fuga fuga e non posso uscire insomma me masano boh scusate dai che vinsa vai su 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 dagli con vulcan dove 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 ciao amico ah non c'è oh si 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 grande grande figa su c no su b grande su b allora rifacciamo la cosa buffa uccidiamo lo stronzo teletrasportiamoci oh no no grande doppia grande assettato di blood mamma mia i punti come vuoi oh affanculo no di qua di qua ma che vuoi fa ma che vuoi fa ma ma arrivo nancio ah bastardo da dietro non c'è la torretta ma perdiamo bravo andiamo qua la torretta andiamo subito a difendere bravo brutto cane no ma hanno distrutto la torretta esatto no aspettatemi amici buffi ok mi sa che ce n'era un altro però non ma come cacchio è questo vabbè mi distrago a guardare il sedere dei nemici morti perfetto ah oh bastardo dai che abbiamo vinto mamma mia i punti che si fanno lo stronzo è ancora c'è oh ma che vuoi fare tu con me no via via fuga 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 ah ma sei il tizio che dicevano a television via che me masami grande vittoria grandi punti bella storia va e beh grande killcam ciao ah ma bravo mamma mia 5.000 punti 24 14 ragazzi alla prossima la prossima